Con il PD fuori dalla giunta greco e decisamente distante dalle posizioni della maggioranza, tanti spazi politici si aprono a mosse fino a qualche tempo fa poco pronosticabili. I prossimi potrebbero essere giorni importanti per il futuro più immediato dei renziani locali che, accantonata l'esperienza tra le fila dei democratici, hanno scelto di portare avanti il progetto Italia Viva. Hanno iniziato piuttosto in sordina, almeno a livello cittadino, i vertici siciliani si sono affidati all'ex dem Giuseppe Ventura con un passato importante sia nella giunta fasulo che in consiglio comunale. Il coordinatore provinciale insieme alla nissena Laura Greco in queste settimane pare aver trovato sponde politiche di una certa portata anche nei rapporti con l'amministrazione comunale. È da chiarire se possa essere Italia Viva il contraltare al PD che ha invece mollato il sindaco Lucio Greco. Giovedì prossimo i renziani si riuniscono e potrebbero essere ufficializzate nuove adesioni strategicamente di tutto rispetto. A breve inoltre dovrebbe essere individuato il coordinamento cittadino, mentre ad ottobre è prevista l'assemblea provinciale. Ventura per ora non si sbilancia. Dopo la riunione del 9 luglio, spiega, verranno indicate le nuove adesioni. Per ora non va oltre negli ambienti vicini ad Italia Viva. Già si parla di scelte importanti e tra i punti all'ordine del giorno del vertice di giovedì prossimo c'è quello delle questioni amministrative. In realtà i renziani, un riferimento nella giunta Greco, già ce l'hanno anche se non ufficialmente. L'assessore Cristian Malluzzo fa parte del gruppo politico che ha poi dato vita in città ad Italia Viva. Attualmente è l'assessore in quota civica, riferibile al gruppo di un'altra gelo a quello del sindaco Lucio Greco. L'avvocato ha ottenuto sostegno comunque in campagna elettorale da esponenti che uscivano da Sicilia Futura, compresi Ventura e lo stesso Malluzzo. Ora sembrano piuttosto ambiziosi e potrebbero piazzare qualche inalteso colpo politico. Diversi mesi fa si diffuserò voci su un possibile avvicinamento del sindaco ancora privo di una vera paternità partitica. Subito dopo aver incassato la Diodem, Greco ha però spiegato di voler mantenere la sua amministrazione lungo il solco del civismo. Gli spazi che si sono aperti e le deleghe lasciate dai democratici potrebbero però diventare incognite, tutte da valutare anche per tessere nuove alleanze.